Avanguardie educative, cosa sono? L'avanguardie educative sono un gruppo di divisionari, di docenti, dirigenti, alunni, di comunità scolastiche che stanno investendo tantissimo del loro tempo, della loro passione soprattutto per rinnovare la scuola italiana. Nasce oggi il manifesto delle avanguardie educative con 22 istituzioni scolastiche ma l'obiettivo è quello di fare sistema, di portare le buone prassi che ci sono, che sono tantissime nella scuola italiana quindi quelle che già ci sono è raccogliere le altre e farle diventare sistema. Com'è all'avanguardia la sua scuola? La nostra scuola è all'avanguardia per aver creato 4 anni fa un progetto book in progress di creazione di contenuti. Quei contenuti, fruibili in maniera cartacea, hanno consentito di essere trasformati, sono stati trasformati in versione digitale e interattiva multimediale e con le tecnologie abbiamo cambiato i tempi e gli ambienti di apprendimento. Quindi è una scuola completamente diversa rispetto a quella dell'Ottocento. Oggi purtroppo molte scuole sono impostate con metodologie di lavoro completamente superate. È cambiato il mondo. Io dico sempre che se il nostro antenato tornasse in vita non riconoscerebbe la propria città. Se ritornasse in una classe la troverebbe identica. Nel frattempo però è cambiato il mondo. Il prossimo step? Il prossimo step è quella di creare un vero e proprio repository di contenuti grazie ai docenti e ai colleghi della rete nazionale Book in Progress in maniera tale che ogni docente all'interno della propria classe possa personalizzare i contenuti e i materiali da dare ai ragazzi. E quindi in una maniera ancora più collaborativa di intendere il percorso didattico. Grazie. Prego.